Una specie di baraccopoli di scarica nascosta nel centro di Pescara è stata scoperta dalla Guardia di Finanza impegnata nelle attività di vigilanza in volo. Nel solco della tutela del biosistema e dell'ambiente, il reparto operativo aeronavale di Pescara è costantemente impegnato nel controllo economico del territorio. Proprio in uno di questi controlli, l'utilizzo dei mezzi aerei in dotazione ha permesso alle fiamme gialle di individuare nel comune di Pescara un sito interamente recintato e ben protetto dalla visuale, costituito da un agglomerato di strutture abusive utilizzate per lo svolgimento di attività economiche e per lo smaltimento di rifiuti speciali pericolosi. L'operazione implica anche aspetti di natura tributaria connessi alla cosiddetta ecotassa, applicabile anche verso chi illecitamente mette a disposizione un terreno adibito a discarica non autorizzata. L'area sulla quale sono stati posti sigilli è di circa 1000 metri quadri. I tributi non versati ammontano a migliaia di euro.